Harry, 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 riesci a immaginare un modo migliore di scontare una punizione? Aiutarmi a rispondere alle lettere degli ammiratori? Proprio no. La fama è un'amica volubile, Harry. La celebrità viene e la celebrità se ne va. Non dimenticarlo. Vieni! Vieni! Vieni da me! Vieni da me! Cosa? Come? Quella voce. Voce? Non l'ha sentita. Di cosa stai parlando, Harry? Credo che tu sia un po' spossato. Veri folletti ci credo, guarda che ora è, siamo qui da quasi quattro ore. Da brivido come vola il tempo quando ci si diverte. Da brivido. Sangue, sento odore di sangue, ti sguarterò, ti ucciderò. Uccidere! 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 Harry! L'avete sentita? Sentito cosa? Quella voce. Voce? Quale voce? L'ho sentita prima nello studio di Allocca e poi di nuovo quando... Tempo. Si sta muovendo. Credo che ucciderà. Ucciderà! Harry, aspetta! Non correre! Correre! Strano. Mai visto dei ragni comportarsi così? Non mi piacciono i ragni. Quello cos'è? La camera dei segreti è stata aperta. Nemici dell'erede temete. È scritto col sangue. È la gatta di Gaza. È Mrs. Spur.